Metano, GPL e tanti morti nella provincia di Matera. Prefetto, da oggi parte la campagna Vivi Sicuro col Gas. Al primo episodio tragico che è successo a Picciano ho costituito una commissione di tecnici composto dal comandante Vigile del Fuoco, dei due direttori generali delle AL, della Croce Rossa, dell'INAIL, dell'ISPEL perché facessero un volantino e un DVD da trasmettere e far arrivare a tutte le persone. Il problema del gas è un problema rilevantissimo, non si può pensare succede agli altri, a me non succede. Questa commissione ha prodotto un volantino molto ben fatto che arriva proprio al cuore e alla testa delle persone in cui si dice che non si scherza e si danno degli adempimenti da fare periodicamente. Il mio problema è quello di arrivare proprio alle persone una per una. I sindaci della provincia di Matera, al quale io invierò stamattina questo volantino e questo DVD, si sono impegnati, ognuno per i propri abitanti, a stampare in tantissime copie questo volantino e distribuirlo ai propri concittadini. Quindi così facendo arriveremo alla maggioranza delle persone della provincia di Matera. Il DVD sarà trasmesso dalle varie emittenti locali. Tutti devono capire che col gas si muore e non possono pensare succedere ad altri, a me non succede. Il primo va da me come un prodotto dalla Prefettura di Matera? No, no, ne abbiamo fatto anche altri, però questo è uno a cui tengo in modo particolare perché qui si parla di vita e di morte. E quindi non posso tollerare senza far nulla che gli abitanti della nostra provincia siano indifesi solo perché nessuno gli spiega cosa devono fare e cosa non devono fare. Un bilancio negativo nel 2007? Molte famiglie sono state colpite purtroppo da questa mano assassina invisibile del gas? No, non drammatizziamo. Sono successe due casi, a Picciano e a Montalbano. Però è già sufficiente per agire e per cercare di evitare che episodi simili si verificano ancora.